Ho sbagliato le ultime partite perché all'inizio non ho mai fatto gol e niente, sono contento per la squadra, per il gruppo, siamo anche noi, come ha detto prima l'avversario, un gruppo di amici e colleghi soprattutto, siamo tutti poliziotti ormai anzianotti e niente, siamo contenti della stagione, abbiamo superato lo scoglio a Borgo Rosso e ci contavamo stasera di vincere, ce l'abbiamo fatta.